Salve a tutti, oggi vi presento il prodotto mini sveglie da comodino con proiettore, orario e luce di cortesia. Il prodotto vi arriva in questo modo, dopo che avete messo 4 batterie dentro, non è incluso nel packaging, nel pacchetto, praticamente il prodotto già funziona. Se solleviamo lentamente la parte superiore, questa è una luce di cortesia da utilizzare durante la notte e qua sotto, come si vede, ha un interruttore, questo interruttore serve per attivare e disattivare il proiettore di orario, come si può vedere, qua sopra, e rimane sempre acceso finché non viene premuto nuovamente per disattivare la proiezione. Ecco, proiezione, disattivazione. Luce di cortesia. In questo momento attiviamo la luce di cortesia, come si vede è una luce abbastanza forte, da vedere nel buio, e una volta ha passato, quindi disattivata la luce, possiamo attivare la proiezione. Sopra la lente del proiettore c'è una pellicola plastica che andrebbe rimossa prima di utilizzare il prodotto e la proiezione, come si vede, sul soffitto che abbiamo qua, di circa 2 metri di altezza, è abbastanza grande. Ok, puoi spegnere adesso, riaccenderlo, spegnerlo, riaccenderlo. Ok.